Made da Casole, ottava e conclusiva del convegno. Ma davanti Nautilus Blitz e veloce Luster SF, si avvia l'esto anche Ghost KTM. Luster e Ghost in lotta, poi Nautilus Blitz in terza posizione alla corda davanti a Nagual della Luna. 13 e mezzo i primi 200 metri, il quarto iniziale in 28 frazioni. Numero 6, Fantomas, squalificato. In vantaggio Luster SF davanti a Nautilus Blitz, i 600 in 44 e mezzo. Varetta opposta alle tribune, Luster, Nautilus e Nagual della Luna. All'argo Ghost KTM, si trascina Nirvana L. Bocco della curva conclusiva, Luster in vantaggio. Ghost che viaggia sempre lì a ridosso, Nautilus in corda che si butta all'interno di Luster SF. Prova il passaggio interno, che gli riesce anche tra l'altro. E si ritrova così in vantaggio, Nautilus su Luster. Siamo a 4 e 50 dalla conclusione, Nautilus Blitz in vantaggio. Uno 30 e mezzo, i tre quarti di miglio, con Nautilus in fuga. Poi Luster SF, Nautilus in chiara. Numero 10, Gavoy, squalificato. Poi Luster Nagual della Luna, che si trascina forte. Numero 11, Lord of Gams, squalificato. Nautilus sbaglia Nagual della Luna. Nero 2, Nagual della Luna, squalificato. Nautilus su Luster e Leader Bag. Nautilus si difende bene fino in fondo da Luster SF. Terzo posto per Leader Bag. La media intorno all'1,15 scarso. 59 e mezzo, io sul cronometro sono preso bene. Quindi direi in media intorno all'1,15 scarso. Il successo per Nautilus Blitz e Manlio Capanna. I colori sono del signor Roberto Frassinelli. La quota al totalizzatore 11,35.